... Mesi e mesi di speculazioni svaniscono tutti oggi mentre facciamo ritorno alle competizioni ufficiali per l'evento d'apertura odierno che spiannerà la strada a una stagione esaltante benvenuti allora al primo appuntamento del campionato mondiale Formula 1 di quest'anno sto schippando la nuova stagione una tabula ra... ... Sì, 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 sì. Vai, te la lascio passare, vai. Aspetta, qui già sta lasciando, vai. Destra, ritardato. Guarda che se chiappo, guarda che se chiappo, eh. Sì, 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 sì. Quanto come ce l'hai, c'alla? Ah! Allora si può ancora fare, si può ancora fare. Sì, però quest'altro trofeo serve pure a me. Ma che cazzo bate? Eh? Hai perso proprio l'ala tutta intera? Guarda le zone di RS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Guarda che frega il giro veloce. darferti. Guarda le zone di zarno stista. Guarda la zona in red. Guarda le zone di hitsa di dalla. Guarda le zone di links sul nostro 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 managed. Guarda i miei! Guarda le zone di questo. Guarda tra leérie. Guarda le zone di insammere sti sp. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara Dovrai scontare dei secondi di penalità a causa dell'ultimo incidente Oddio Scusa ma... Volevo farla tanto Che sta busto dei fiori da moto? Se continui a tagliare le curve riceverai una penalità dai commissari Vado a lungo pure io Eh? Oh ma... 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 guardalo come va dritto